L'infanzia è una ricchezza di passione, di sentimenti, di cure, di attenzione, di amore, molto, molto, molto. La disperazione di quella notte di sentire le voci di chi stava morendo sotto le macerie e non potevi fare nulla, questo mi ha dato un tormento per la vita. Su questo sentimento della rivendicazione della dignità, dell'uomo, della sua preminenza nella società e dal grande appello, naturalmente, di grandi artisti, di grandi letterati come Sciascia e vennero da tutte le parti del mondo non a donarci qualcosa, ma a costruire insieme e costruire non soltanto le opere, ma a costruire le coscienze nuove. Musica Non mi ha mai lontanamente sfiorato l'idea di deporre la forza di testimonianza. Musica Musica Grazie a tutti.